Solo un pareggio, uno a uno tra Sant'Angelo Licata e Real Ragusa. Un rigore concesso al termine della gara dall'arbitro Di Venti, trasformato da Guarino, regala un punto prezioso ai ragusani che poco hanno fatto per meritare il pareggio. In occasione del rigore, per fallo da ultimo uomo, è stato espulso Filippo Graci. I gialloblu Aldino Liotta hanno sbagliato in postazione di gara perché per ben 70 minuti sono stati in vantaggio. La rete dei padroni di casa al ventesimo con un colpo di testa preciso e potente di Giovanni Lacognata che ha raccolto un assist dalla destra di Andrea Pinto. La cronaca, al quinto punizione da 40 metri per il Ragusa, arriva Maliano ma è scordinato e si fa anche male. All'undicesimo incorvaia dalla distanza ma il suo tiro si spegne a lato. Al diciottesimo le prove generali del gol, Pinto serve Bonvissuto che entra in area scarica di potenza ma è bravo il portiere Gurrieri a respingere con i pugni. La rete al ventesimo di Lacognata. Al ventitresimo Giannello ad impensierire la difesa avversaria. Sempre Giannello, cinque minuti più tardi, supera due avversari ma la sua conclusione è di poco a lato con il portiere attento sulla traiettoria del pallone. Viene ammonito Maliani, secondo tempo privo di emozioni per circa mezz'ora con la Sant'Angelo che invece di difendere il risultato di vantaggio cerca il raddoppio. Da segnalare solo un tiro di incorvai al quattordicesimo. Al ventesimo Terranova di testa centra la traversa, il ritmo sale. Al trentesimo Gurrieri pericoloso su punizione con Aronica che si salva in corner. Protesta e viene ammonito Fabio Bonvissuto. Al trentaduesimo si fa vedere il neoentrato Lulù che scambia con Bonvissuto ed ottiene un corner. Ammonito anche Andrea Pinto. Al trentanovesimo l'episodo del rigore. L'angio Lungo che trova Marino libero si invola e viene atterrato al limite da Graci. L'arbitro decide per il rigore. Screzzi a fine partita.